Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti a questa guida sui meme di internet. MemeScape, come si pronuncia in inglese il termine meme, anche se in Italia quasi tutti pronunciano meme. Che cosa sono i meme? Bene, sono un fenomeno estremamente interessante, per questo ho pensato di creare questa guida. Sono un fenomeno mediatico e comunicativo che presenta delle interessanti applicazioni dal punto di vista didattico. Infatti i meme sono semplicemente delle immagini, alcune le chiamano anche macro o macroimmagini, con delle scritte, quindi con del testo. Quindi sono molto versatili, sono uno strumento per esprimere un'opinione, un commento, per prendere in giro, per suscitare iranità, per ironizzare, ma anche per comunicare le proprie idee, di tipo per esempio politico o di tipo morale e così via. E quindi, essendo così semplici da realizzare, dato che un formato grafico è estremamente elementare, presentano tutti i requisiti per essere utilizzati nell'attività didattica e nell'ambito di quello che è lo sviluppo delle competenze digitali. Vediamo di capire subito di che cosa stiamo parlando. Bene, facciamo quindi un esempio. Questa è una immagine, una macro, con una scritta. Questo è Chuck Norris, protagonista di Walker, Texas Ranger. Un duro, un macio. Le macro, chiedo scusa, i Chuck Norris fact, sono i meme dedicati a Chuck Norris. Il modello di tutti i meme di Chuck Norris è questo, c'è un'immagine che raffigura Chuck Norris e c'è una scritta in cui si presenta un iperbole, in modo iperbolico, la ruvidità, durezza e invincibilità di Chuck. Qui per esempio, vedete, abbiamo Chuck Norris, non ha il tasto escape, quindi fuggi, scappa, nella tastiera del suo computer, perché ovviamente Chuck Norris mai e poi mai scapperebbe. Ecco, quindi un po' paradossale, un po' iperbolica. L'internet meme, in questo caso dedicato a Chuck Norris, che cos'è? È un tormentone, rappresenta nel mondo dei social uno dei principali strumenti per esprimere la propria opinione. E' un tormentone che si diffonde in modo virale e spontaneo sul web tramite social o tramite mail. E quindi i social media, per esempio, sono pieni di questi meme. Proprio perché, essendo limitate le possibilità di una interazione dialogica basata su uno scambio argomentativo, è più immediato questo strumento di comunicazione per interagire. E quindi stiamo parlando di uno strumento molto interessante, perché siamo alle frontiere della comunicazione nei social. Qualcuno parla addirittura di memescape, cioè di universo dei meme di internet. I meme di internet sono un fenomeno tipicamente web 2.0, con web 2.0 ricordo che si intende un'evoluzione del web più che dal punto di vista strutturale, informatico, anche ovviamente, dal punto di vista delle modalità d'uso del web. Il web è diventato estremamente semplice, estremamente semplice per tutti noi, essere dei prosumer, cioè non solo dei consumatori di informazioni, recitori passivi, ma anche degli autori, produttori, prosumer, produttore e consumatore di informazione. E quindi dei soggetti attivi. Infatti, i meme, come quello che abbiamo appena visto, il Chuck Norris Fact, vengono modificati dagli utenti che li adattano alle loro esigenze comunicative. Sono un fenomeno che caratterizza, come abbiamo già detto, i social media e presentano anche una delle modalità di diffusione più caratteristiche del web, e cioè la viralità. Si riproducono appunto come i virus, in modo estremamente rapido, tramite le condivisioni sui social. Ma sono anche un elemento molto interessante dal punto di vista della creatività, perché essere originali, partendo da un modello precostituito, come sappiamo, l'originalità non è l'assenza di regole, ma è anzi la capacità, date determinate regole, di esprimere un contenuto peculiare, partendo da un modello precostituito, come può essere quello dell'immagine di Chuck Norris e di un testo, di un breve testo iperbolico e paradossale, di produrre qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di particolare. Quindi creatività, ma anche pensiero critico, perché con i meme possiamo, come dicevo prima, polemizzare sul piano politico, sul piano sociale, sul piano dei gusti, sul piano di un dibattito che può riguardare qualsiasi argomento, dal dibattito su una serie tv a una discussione che coinvolge principi elevati. Ecco appunto, comunicare con un meme è estremamente interessante. C'è anche un non so che di ironia quasi socratica, spesso nell'uso dei meme, quella presa in giro intelligente che mira, per esempio, a smontare i pregiudizi con i meme, è possibile farlo. Qui avete un link a Know Your Meme, che è una vera e propria enciclopedia dei meme, che mira a classificarli secondo le varie tipologie e i vari modelli, e che di ogni modello e tipologia vi racconta un po' la storia, come si è originato, qual è il suo formato caratteristico e così via. Bene, ma il termine meme, da dove deriva? Deriva da un famoso libro di un biologo, etologo, Richard Dawkins, Il gene egoista. Richard Dawkins, come ha detto, è un biologo e questo libro suscitò un ampio dibattito quando uscì nel 1976 nell'ambito della biologia evoluzionistica per le tesi che Dawkins avanzava. In questo libro Dawkins si occupa anche della cultura, è più esattamente di un problema che lui giudica analogo a quello dell'evoluzione biologica, l'evoluzione della cultura. Come avviene la dinamica culturale? In base a quali principi la cultura e i fenomeni culturali si sviluppano ed evolvono. Bene, è Dawkins a creare, in analogia col termine di gene, il termine di meme. Lo riprendendo una parola greca, mimema, che eliminando la prima sillaba, rimane meme, meme in inglese, che vuol dire imitazione, perché il problema era proprio quello di definire le modalità tramite cui le idee nel corso della storia culturale si diffondono, si diffondono per propagazione, dice Dawkins, un po' come nell'ambito dell'evoluzione delle specie, non è tanto la specie ciò che conta, quanto il gene, è il gene il soggetto dell'evoluzione e quindi il gene si evolve replicandosi sul supporto biologico per così dire del singolo organismo e le modifiche che si presentano nel corso dell'evoluzione genetica saranno conservate e si replicheranno quelle che garantiscono una maggiore capacità di adattamento degli organismi. La stessa cosa avviene con i meme, i meme sono idee, stili, vedremo poi procedimenti tecnici, eccetera, che rappresentano le unità culturali minime, un po' come in genere rappresenta l'unità minima dal punto di vista biologico e si propagano per replicazione, si replicano nella mente degli individui, le idee per esempio, per imitazione vengono riprodotte nella mente di altri individui oppure si replicano su altri supporti di memoria, per esempio la carta o per esempio la pietra, pensiamo a un arco, dice Dawkins, un arco esiste nella pietra, la pietra è il supporto di memoria di questa struttura architettonica e si propaga per imitazione. Questo per, Dawkins spiega l'evoluzione culturale, anzi sulla base di questa proposta di Dawkins è stata inventata una scienza, una disciplina, la memetica che non ha avuto grande successo, anzi quasi nessuno la riconosce come tale, cioè come disciplina scientifica, però appunto è interessante come prospettiva sulla storia culturale. Per Dawkins, dicevo, un meme può essere un'immagine, può essere una moda, un'idea, uno stereotipo, una procedura tecnica, un qualsiasi elemento culturale minimo, autoconsistente quindi, cioè che possiamo considerare autonomamente, che viene trasmesso per imitazione, come dicevamo prima, come il genere sta alla genetica e il meme sta, come dicevamo prima ancora, alla memetica. In questo modo, tramite replica, mutazione e selezione, perché chiaramente, che so, una tecnica per la produzione di un oggetto che taglia, quindi un coltello, che taglia più efficacemente di altri coltelli, ecco il gruppo che ha sviluppato quella tecnica, avrà più vantaggi, avrà una capacità di adattarsi all'ambiente maggiore di quella di altri gruppi e quindi quest'idea probabilmente si propagerà dal gruppo originario ad altri gruppi, replicandosi in essi. Vediamo un po' da vicino questo concetto. Prendiamo un arco, ecco, in questo caso il supporto è la carta, anzi il digitale, ma questa è la riproduzione di un disegno su carta, dell'arco. Che cos'è l'arco? L'arco è in questo caso la nostra entità che è rilevabile ed esprimibile in termini informativi, che è relativa a un elemento culturale che sappiamo quanto essere fondamentale, appunto questo è un arco a botte, che si può replicare sul supporto di memoria, in questo caso replicata sia sul digitale che a sua volta riprende un'immagine disegnata su carta. Un supporto di memoria che può essere la mente umana, naturalmente, o può essere artificiale. Il libro, la pietra, il legno è che si diffonde per imitazione. Chiaramente i meme condizionano il comportamento umano e il pensiero umano come strutture mentali, ma a loro volta ne sono condizionati e possono trasformati. Questo si avverte soprattutto con gli internet meme. Del resto questa è un'acquisizione che è abbastanza antica negli studi sulla cultura e cultural studies, insomma, come si dice in inglese. Ma torniamo ai nostri internet meme, che sono leggermente differenti da quello che è il meme di Dawkins, anche se sono strettamente imparentati. Qui avete uno dei più antichi e famosi tra i meme di internet. Cats. Cats erano i cattivi di una saga chiamata Zero Wings, era un videogioco dell'89 uno sparatutto di Sega Mega Drive. Abbiamo delle immagini con dei testi. Qui trovate anche i link dove vi spiegano meglio la storia dei vari meme di internet. Bene, questo è il cattivo che compare, vedete cosa dice. Quello che dice tradotto alla lettera è tutte le vostre base appartengono a noi. All your base are belong to us. Che chiaramente è una forma di inglese che viene definita English per indicare un cattivo inglese, un inglese maccheronico. In genere l'English è il risultato di approssimative traduzioni dalle lingue asiatiche all'inglese, soprattutto nell'ambito del mondo dei videogiochi. È passata la storia questa frase e altre frasi di questo gioco, tanto ad essere citato come uno dei primi internet meme. Viene usato anche in forma di acronimo AYBABTU che indica qualcuno che non si sa esprimere, qualcuno che dice qualcosa di ridicolo o fa qualcosa di ridicolo, eccetera. Qui abbiamo altre tipologie e modelli di meme. Abbiamo anche due link che vi propongo, tutti e due in italiano per fortuna, un'antologia memetica dove trovate questo e altri meme di internet e qui ugualmente una sorta di storia di internet attraverso i più famosi tra gli internet meme. Vi ho anche inserito alcuni link per approfondire alcuni dei modelli, delle tipologie di queste macro, di questi meme. Alcuni li vedremo ora, non troppi perché poi dovrebbe troppo questa videoguida. Andiamo avanti. Ecco, questo è un Willy Wonka meme. Willy Wonka, sapete, è il personaggio della fabbrica di cioccolato. prima di Johnny Depp è stato interpretato in un film degli anni 70 da Jen Wilder. Come vedete ha un suo formato proprio, che è differente da quello dei Chuck Norris Fact, che è un'immagine di Willy Wonka, in questo caso di Jen Wilder, con un testo superiore, un testo inferiore. In genere non cambia neanche il font e il size, la dimensione del testo, che è un sanserino, non so cosa, francamente, forse è un roman, che in genere pone una domanda iniziale a cui segue una risposta paradossale del tuo e quindi dice che gli italiani sono stupidi perché non scendono in piazza a protestare. Caspita, tu devi essere proprio un rivoluzionario da dietro a quella tastiera. vedete che è un modo di polemizzare che implica una soluzione creativa e comica, ma anche ironica, basata su un'analisi critica del comportamento contro il quale si interviene o che si vuole in qualche modo stigmatizzare. Ah, così tu non hai tempo per lavorare, ma questa l'ho trovata in italiano. Ah, così tu non hai tempo per leggere. Dimmi come è andata che si è arrivato a livello 261 di Candy Crash Saga. Raccontami di nuovo, insomma, ecco, per dire che insomma tempo ne ha perso abbastanza e lo avrebbe avuto, ma l'ha dedicato ad altre cose. Un altro formato è il LOLCAT, insomma, LOLCATS plurale. Si tratta anche qui di una, in genere il formato è questo, quindi uno spazio superiore nero con una scritta, uno spazio inferiore nero con un'altra scritta, ci possono essere una o più immagini e in genere abbiamo un gatto con delle scritte che sono comiche, spesso, almeno con l'inglese, sono molto sgrammaticate, tanto che si parla di cat pigeon, cioè di un linguaggio dei gatti. Poi troviamo le varie tipologie, ovviamente c'è LOLCATS che sono stati primi, poi c'è LOLDOG, ADVISE ANIMAL, quindi i vari animali protagonisti di questi meme. Ecco, si potrei ucciderla, qui manca la parte superiore e inferiore, si potrei ucciderla, ma mi serve per aprire le scatolette, che è molto divertente, anche questa è molto carina. Poi naturalmente vi darò il link alla presentazione nel box descrittivo del video. Andiamo avanti, tra i più belli ci sono senz'altro i demotivational post, insomma i poster demotivazionali, o meme, o demotivational meme. Demotivazionali è strano, perché lo scopo è quello di abbattere moralmente colui a cui sono indirizzati, e qui insomma hanno un taglio molto pessimistico, e nascono in contrapposizione a quella cultura aziendale che è imperversata, sia nel mondo aziendale che nel mondo della formazione, della motivazione, del supermotivare, quindi corsi di motivazione, di automotivazione, di come avere successo, aziende piene di poster motivazionali, eccetera, eccetera. Mentre chiaramente i poster demotivazionali polemizzano ironicamente su questa tendenza, qui inserirò un link ai poster demotivazionali, vedete il formato è nero, con un'immagine, sotto un titolo, non so se sia questo Impact, non mi ricordo, non fa niente, un titolo, trovate queste informazioni nell'enciclopedia dei meme, e poi una scritta, un sottotitolo, scritto più piccolo, mediocrità. Non è che per il fatto che noi ti accettiamo così come sei, che non nutriamo la speranza che tu possa cambiare, insomma, possa migliorare, oppure unico. Il fatto che tu sia unico non significa che tu serva qualcosa, che tu sia utile, e si vede la forchetta. Quindi sono poster molto demotivanti, per così dire, molto carini, molto interessanti, molto ironici. Ora, siccome il nostro scopo è anche quello di eventualmente utilizzarli in sede didattica, data la loro estrema semplicità, vediamo un po' qual è la loro composizione, qual è la loro struttura. Bene, prendiamo un altro meme molto famoso, che si trova tanto nei social, quando vogliamo creare una generarchia, è l'expanding brain, mi pare si chiami, dove si vede una generarchia di cervelli, da un micro cervello a una mente cosmica che si fonde sul tutto, una super mente. Potete trovare anche immagini diverse, possono essere tre posizioni, quattro posizioni, cinque posizioni, ma insomma, lo schema è invariante. Come scrive molto bene Alessandro Lolli, in questo articolo che ho postato qui, che ho linkato qui, è nella cornice e il cuore del meme. La versatilità del meme e la sua semplicità stanno in questa combinazione tra una struttura invariante, che in questo caso è data da questa immagine, e da una migliaia e migliaia di messaggi che questa struttura può generare. Qui possiamo mettere i nostri amici per ridere, oppure io studio insegno filosofia e quindi fare una graduatoria tra i filosofi, dal meno al più intelligente, o oggetti, o passatempi, o squadre di calcio, o quello che noi vogliamo. Qui ho messo il link, quindi la parte invariante è lo schema che cambia da meme a meme, è la parte che poi dobbiamo riempire, la parte variabile che dobbiamo riempire con il testo, e quindi la creatività sta nel trovare il testo giusto, ma anche il modello giusto e poi riempirlo col testo giusto in funzione di quello che è lo scopo che vogliamo ottenere. Esistono naturalmente delle applicazioni che ci permettono di realizzare in modo estremamente semplice dei meme, come Meme Generator, qui avete il link, questa è l'interfaccia, ho già dedicato un video tutorial abbastanza lungo a Meme Generator, quindi non lo rispiegherò certo qui, ma metterò una scheda con il link qui in alto a destra. Passiamo agli utilizzi didattici di Meme Generator, ma in generale dell'utilizzo dei meme. Come abbiamo visto si tratta di uno strumento di comunicazione che supplisce con la sua forza comunicativa dovuta alla combinazione creativa di immagine e testo a quelli che possono essere i limiti della comunicazione online, soprattutto nel mondo social, dei social media, quindi abbiamo un'idea, un'osservazione, un commento ironico. Bene, possiamo esprimerla in modo molto forte con la combinazione di immagine e di testo, piuttosto che argomentare, su un social è molto difficile argomentare. Si tratta, come ho detto prima, di un caso di ironia socratica del ventunesimo secolo, perché fondamentalmente c'è sempre nel meme il tentativo di esplicitare delle premesse semplicite per ridicolizzare, per esempio, l'interlocutore o ciò che l'interlocutore sostiene. Come li possiamo usare? Sono estremamente versatili, possono essere il momento conclusivo di un'attività o un momento intermedio di un'attività che può servire per illustrare un'opinione o una tesi, oppure possiamo utilizzarli per riportare una citazione, per polemizzare come dicevo e in che modo? Possiamo inventarcelo anche noi, le applicazioni ci permettono o di usare i modelli preesistenti come quelli che vi ho mostrato, oppure di inventarci un nostro modello, per esempio un personaggio, per esempio un vulcano, perché abbiamo studiato come funzionano i vulcani, di adattarli al livello, al grado di scuola e quindi all'età dei ragazzi, di dare un determinato taglio che può essere più o meno ironico, più o meno comico, più o meno polemico e così via. Possiamo per esempio immaginarci dei personaggi di un'opera letteraria che esprimono la loro opinione su un determinato tema, problema, o sull'opera stessa o su altri personaggi di altre opere e viene fuori qualcosa che può essere molto divertente, oppure possiamo dare come consegna ai ragazzi e alle ragazze quella di esporre la loro posizione su un tema e un problema, il solito problema di bioetica, un problema sociale, oppure un problema attinente alla nostra disciplina e così via. Bene, spero che questa guida vi possa essere utile, come diapositiva conclusiva ho inserito alcuni link, alcuni di questi sono già presenti in questa presentazione che è anche un percorso di approfondimento, qui trovate una decina di link ordinati a seconda dell'argomento, quindi che cos'è un meme, che cos'è un meme di internet e poi la storia, le tipologie e le antologie di meme di internet. Bene, questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata.